Amici della Palavolo Piemontese, bentornati su Piemonte Volley Online, il magazine multimediale che ogni settimana vi regala il mondo sotto rete. Su questo numero un ampio servizio sulle finali regionali Under-14, che hanno assegnato i titoli di campioni regionali e i pass per le finali nazionali. E poi il punto su questa primavera di play-off, sia per la Serie C che per la Serie B, con le possibili promozioni piemontesi in A2. Quattro squadre in lotta, quattro realtà che seguiremo nel loro percorso di crescita, che speriamo possa regalare grandi emozioni al nostro volley. Inoltre news, video, immagini e curiosità dal web con la rubrica Il Volley in Rete. E poi le ultime novità dai collegiali del Club Piemonte, sempre più vicini al Trofeo delle Regioni, senza dimenticare i corsi di aggiornamento. A tutti i tesserati nati dal 21 al 27 maggio, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Tutto questo e molto altro nel nuovo numero di PVO. Il Volley vive qui.